Namaste, ciao! Questo video è un'analisi di una delle posizioni che facciamo più spesso nella pratica, che è Urva Mukha Svanasana. Quindi è una posizione non da principianti, la sostituiamo a Vujangasana, quindi la posizione del cobra nei saluti al sole, nella sequenza di Vinyasa. È un'apertura del petto, è anche una posizione che richiede non solo già una flessibilità della colonna vertebrale, ma anche una certa forza. Quindi che cosa vediamo in questo video? Prima di tutto vediamo la posizione, l'allineamento corretto, vediamo che muscoli andiamo ad utilizzare e come andiamo ad utilizzarli e ovviamente anche appunto quelli che sono gli errori da evitare e come modificare la nostra posizione. Quindi Urva Mukha Svanasana. Siamo abituati a sentire magari più spesso Adho Mukha Svanasana, che è la posizione del cane a faccia in giù. Urva Mukha Svanasana, Urva significa verso l'alto, quindi il viso è rivolto verso l'alto, il cane che guarda verso l'alto. Solitamente entriamo nella posizione, possiamo entrare da Chaturanga, possiamo passare direttamente dalla tavola, però solitamente siamo in una sequenza dinamica. Se siamo in Chaturanga, andiamo a stendere le braccia, portiamo il collo del piede in terra e andiamo ad aprire il nostro petto. Quindi questo è il nostro Urva Mukha Svanasana, appunto. Il petto si apre, forza nelle mani in terra, le gambe attive e stese. L'allineamento, diciamo, non è la parte più difficile di questa posizione. Come ho detto all'inizio, dobbiamo avere sia la flessibilità della nostra colonna nel fare il piegamento indietro e la forza nelle mani, quindi vogliamo spingerci bene. Iniziamo già a introdurre la muscolatura che lavora. Ovviamente rinforziamo i tricipiti, rinforziamo i deltoidi posteriori, la parte inferiore del trapezio. Siccome facciamo un piegamento indietro, attiviamo il sacro spinale. Però sono attive anche le gambe, quindi non è solo la parte superiore del corpo che crea il piegamento indietro, ma dobbiamo avere le gambe attive. Quindi, quando siamo nella posizione, non solo spingiamo con le mani in terra, se non spingessimo, rimarremo, collasseremo nella posizione e ovviamente non potremo respirare normalmente. Quindi ho le mani attive che spingono in terra, le braccia attive, le spalle, la muscolatura delle spalle attive, ma anche le gambe sono attive. Come ho detto, il collo del piede è in terra, solo il collo del piede tocca in terra. Quindi i miei quadricipiti sono attivi per distendere le gambe, il grande gluteo è attivo. Quindi, diciamo che è una posizione che rinforza davvero sia la parte superiore che la parte inferiore del corpo. Quindi la facciamo molto spesso, spesso sì, diciamo, è una posizione di transizione, quindi non sosteniamo la posizione. Se invece vogliamo andare a lavorare sul rinforzare le nostre spalle, le nostre braccia, la schiena in generale, allora possiamo sostenere la posizione, perché solitamente appunto è espiro, scendo in chaturanga, inspiro, salgo in urvamuka, espiro, salgo in adunka svanasana. Quindi solitamente è una transizione. Una cosa molto importante, tornando invece all'allineamento, è la posizione del collo. La posizione si chiama urvamuka svanasana e è un'apertura, mentre appunto ci vediamo in avanti, ovviamente è un'apertura della parte frontale del corpo. Quindi andiamo ad estendere il retto e l'addome, andiamo ad estendere gli opsoas. Se vogliamo approfondire, diciamo, l'estensione frontale, possiamo sollevare il mento in questo modo. Ok, ci sono molti modi di sollevare il mento. Prendendo la posizione si può fare anche guardando semplicemente davanti a noi. Si può sollevare il mento, si può far cadere la testa indietro. Ok. Sono tre opzioni, entrambe, diciamo, possibili. Io non amo l'ultima e non la suggerisco. Quindi mi rendo conto che se lasciate cadere la testa indietro, sentite maggiormente estendersi la muscolatura del collo, i pettorali. E' una cosa che comunque non consiglio, perché le vertebre cervicali comunque sono vertebre molto, molto delicate. Sono le più piccole della nostra colonna vertebrale. Quindi la testa è la parte più pesante del nostro corpo. Quindi fare questo movimento di lanciare la testa indietro, quasi senza il controllo e il sostegno della muscolatura. Io, diciamo, non ve lo suggerisco, ecco, di farlo quotidianamente, tutti i giorni, più volte al giorno, durante una pratica. Ok. Quindi se volete guardare in alto, la muscolatura comunque della testa sostiene il movimento della testa. Quindi guardo in alto ma non lascio cadere la testa indietro. C'è una bella differenza. Quindi abbiamo detto muscolatura che si allunga, la muscolatura frontale dell'addome, ma anche i nostri flessori delle anche. Errori che si possono compiere in questa posizione. Un errore, tra virgolette, è quello di fare per forza questa posizione o farla troppo presto nella pratica. È un forte piegamento indietro, la muscolatura, soprattutto le braccia, deve essere pronta, la muscolatura della schiena deve essere calda. Quindi io vi suggerisco, anche se è nella vostra pratica, se la fate senza problemi, All'inizio, quando fate un saluto al sole, un vignasa, piuttosto fate, scendete giù del tutto, iniziate a fare la posizione del cobra per iniziare a riscaldare la muscolatura lombare, iniziare a riscaldare la muscolatura di tutta la schiena, e poi solo quando saremo più caldi, allora introduciamo Urva Mukha Svanasra. Perché appunto è una posizione molto intensa, quindi anche se siamo abituati a farla, magari la nostra muscolatura lombare è ancora fredda, è ancora rigida, non è ben errorata, e quindi proviamo a fare la posizione e la muscolatura si contrae, e quindi poi ci portiamo dietro una contrattura. Quindi facciamola quando sentiamo che la schiena è già calda, soprattutto se sappiamo in generale di soffrire un po', diciamo che la muscolatura lombare è un nostro punto debole. Un'altra cosa, dobbiamo essere pronti, diciamo, avere la forza per fare questa posizione, quindi non è solo il fatto di non collassare nelle spalle, ma è anche di riuscire a mantenere attive le gambe. L'idea è quella, in questa posizione, di spostare lo sterno in avanti e aprire bene il petto. Se sento che non ho la forza nelle braccia e nelle gambe per sostenermi, continuo a fare la posizione del cobra, continuo a fare delle pratiche che mi aiutano a creare questa forza che mi manca. Quindi non facciamo questa posizione prima del tempo dovuto. Una cosa importante sono i polsi. Andiamo a fare molta forza in terra con le mani per sollevarci. Se ci danno fastidio i polsi, possiamo sempre mettere un supporto alla base della nostra mano, solitamente tenere un asciugamano piegato o avere il tappetino piegato, come è più comodo, il tappetino piegato non è comodissimo, però avere un asciugamanino piegato, arrotolato, che vi crei un supporto, oppure spostare le mani un po' più avanti in modo tale da non creare un angolo proprio retto, un angolo a 90 gradi con i polsi. Un'ultima cosa che è valida per questo piegamento indietro, ma in generale per tutti i piegamenti indietro, è che l'addome, la muscolatura addominale, deve essere leggermente attiva. Quindi devo proteggere la mia parte lombare, non devo lasciare del tutto andare la muscolatura lombare, perché ovviamente poi dipende dalla conformazione della mia colonna vertebrale, ma in generale rischiamo di collassare nella parte lombare. Ci sembra, wow, sto facendo un piegamento indietro fantastico, e invece andiamo appunto a portare troppa pressione in questa parte del corpo. Quindi la muscolatura addominale è sempre leggermente attiva. Siccome sto facendo un piegamento indietro, posso respirare di più con la parte toracica e del petto, quindi inspiro, allargo bene questa parte, e tengo l'addome forte, l'addome leggermente attivo. Ok, questa era Urva Mukha Svanasara. Spero che questo video ti aiuti nella tua pratica, magari a correggere quelle piccole, diciamo, quei piccoli dubbi, quelle piccole imprecisioni nella pratica. Se ti interessano altri video, trovi qua sul mio canale la playlist che si chiama appunto Asana, dove c'è l'analisi delle posizioni un po' più comuni, e io continuo a farne, quindi se vuoi iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche quando esce un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima. Namaste. Noi ci vediamo alla prossima.